Roberto Castello, Dance Concert, un concerto di danza costruito sull'improvvisazione. E' effettivamente un concerto, nel senso che è un lavoro fatto a brani, come sono i concerti che si rispettano, è un lavoro di improvvisazione e sull'improvvisazione. Volevo essere un'occasione per riflettere sulle dinamiche dell'improvvisazione, a cui io do grande importanza, non tanto sul piano tecnico e del risultato estetico, quanto penso davvero che l'improvvisazione fatta come si deve sia uno straordinario esercizio, all'eccezionale scuola, alla collaborazione con gli altri e all'insaurare dei rapporti equi, corretti, per perseguire un fine comune. E questo è qualche cosa che ha anche un traslato nella vita quotidiana, nel dare importanza alle cose, dare importanza alle cose che si fanno, dare importanza al tempo che si vive e soprattutto alla qualità delle relazioni che si hanno con le persone che si hanno intorno. Giselle D'Aranieri, Elisabeth Schilling, Lorin Sucul, tre performers, tre diversi modi di pensare, tre diversi modi di celebrare il tempo. Decisamente, nel senso che c'è questa curiosa, mi è venuta un giorno l'idea di provare a mettere assieme queste tre persone che non si conoscevano assolutamente, che invece di cui punto di contatto unico ero io, tre persone che vivono praticamente sullo stesso meridiano, ma su paralleli estremamente diversi. Lorin viene dal Sudafrica, Giselle è italiana e Elisabeth vive in Germania, vicino a Lussemburgo, diciamo, è una cittadina del centro Europa. E conoscendole, conoscendo la forte diversità del loro approccio, del loro approccio alle cose, sia al danzare, ma anche al vivere, al problema dell'estetica, ai contesti culturali con cui si misurano, ho pensato che fosse molto interessante provare ad accostare, fare un'esperienza di interculturalità seria, nella quale ci fosse il massimo rispetto per ciascuna. L'invito a ciascuna a non abdicare alle proprie convinzioni, alle proprie convinzioni più radicate, più profonde, ma comunque entrare in una logica di condivisione e collaborazione all'interno delle regole del gioco dell'improvvisazione.